Franchi! Lenny! Lenny, sei tu? Sono qui, Franchi. Avvecinate ancora un po'. Sì, che c'è? Ho tanto freddo. Perché siamo animali a sangue freddo. Deficienti. Franchi, no! È successo per colpa mia! Mi dispiace tanto, Franchi! E adesso come faccio a spiegarlo a Papi? Che tragedia! Indietro! Sono pazzo! Queste pinne sono armi impropre! Guatai! Guatai! Guatatai! 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 Guatatatai! Guatatatai! Imbacchi... Guatatai! 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 Oh no, ti prego! Non farmi del male! È tutta un'idea sua! Prenditela con Ernie! Oscar! Ma l'hai ammazzato tu lo squalo! Sì! Sì, sì, sì! È proprio come sembra! Così è andata! Ma come hai fatto? Ah, voi... Volete sapere come ho fatto? Chiaro! È certo! Sei vivo! Ingrappa uno squalo! Spara, Gumball! Ve lo dico io come ho fatto! Prendito!